Musica Ben ritrovati con l'informazione del RTC Quartarete. Il Comune di Cavale Tirreni e Lausino cercano di trovare un accordo sulle partite debitorie e creditorie. Vediamo. Il Comune di Cavale Tirreni e Lausino, la società che gestisce il servizio idico integrato sul territorio, cercano di riconciliarsi sulle partite debitorie e creditorie. Infatti, la verifica dei crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2008 evidenzia un disallineamento tra quanto risulta la contabilità del Comune di Cavale Tirreni, dalla quale emerge un credito vantato dall'ente di poco inferiore a 32.000 euro, e quanto risulta invece dalla contabilità di Lausino, poiché la società sostiene che il Comune Metelliano è debitore nei suoi confronti di poco più di 443.000 euro. Il Comune e la società già da diverse settimane hanno avviato delle trattative finalizzate alla riconciliazione delle reciproche partite debitorie e creditorie, anche mediante la ricognizione analitica di tutte le voci che costituiscono le reciproche pretese. Dopo una serie di incontri chiarificatori, il debito del Comune nei confronti di Lausino sarebbe di 37.000 euro. Tuttavia, resta un disallineamento tra le rispettive partite contabili relativamente a due crediti vantati dal Comune, ma contestati dall'Ausino. Nello specifico, si tratta dei canoni di fitto del piano seminterrato dell'ex circoscrizione di Pregiato per il periodo settembre 2013-dicembre 2018 per 194.000 euro, e i lavori in via 25 luglio, eseguiti in danno dal Comune per 86.000 euro. Credito questo contestato da Lausino, in quanto ritiene che i lavori eseguiti non siano addebitabili alla società. Alla fine di delimere la controversia, le parti hanno concordato di demandare la proposta di definizione delle partite non riconciliate ad un organismo tecnico, composto da un dirigente del Comune, da uno dell'Ausino e da un professionista esterno. Il collegio, quindi, dovrà determinare il valore locativo dell'immobile e stabilire se i lavori eseguiti in via 25 luglio siano in tutto e in parte addebitabili al gestore del servizio idrico integrato. Entro il 15 novembre la controversia dovrà essere risolta. E parliamo sempre di Cava, dove la Confesercenti ritorna a far sentire la sua attraverso l'intervista rilasciata dal suo presidente Aldo Trezza in merito alle criticità legate alla viabilità e alla sosta in città. Migliorare la viabilità, innovare il sistema di sosta e regolare il piano di carico e scarico delle merci. Questi i principali temi che il presidente della Confesercenti di Cava de Tirreni, Aldo Trezza, pone ancora una volta all'attenzione dell'amministrazione comunale. In primo luogo Trezza evidenzia una serie di criticità legate ai principali punti di snodo stradale come quello di Viale Riccardo Romano e l'incrocio tra Corso Principe Amedeo, Viale Benedetto Gravagnolo, Via Pasquale Atenolfi e il recente sottovia veicolare, dove nelle ore di punta numerosi sono i casi di imbottigliamento del traffico cittadino. Non voglio improvvisare nessun tecnico della viabilità, ma sta sotto gli occhi di tutti che ci sono problemi. Voglio andare da Viale Riccardo Romano, dove prima la strada era una sola e c'era traffico. Ora abbiamo avuto un'altra rampa, ma il traffico, se non dico rimane, ma peggiora addirittura. Quindi chi la mattina si deve regare al lavoro prendendo l'autostrada, se non parte si deve arrivare alle 8 e mezzo al posto di lavoro per arrivare a Salerno, se non parte alle 7 e mezzo non ci arriva più. Quindi questo è un problema gravissimo. Pure a Viale Gravagnolo, dove ci sta adesso questo imputo, a Via Tenolfi, dove confluiscono le macchine da questo decantato sottopasso. Quelle che vengono da Viale Gravagnolo, quelle che scendono da sopra, dal fondo dei Carabinieri, per essere più chiari. Chi deve scendere a Salerno, chi deve andare verso Nocei. La mattina, il pomeriggio, ci vuole una bella carica di pazienza, arriva là e non sai quando arriva. Ma la cosa grave è questa, sono milioni che si buttano e non so quanti metri quadri di cemento che noi stiamo invadendo anche i cavi di cemento. Ma se ci sono dei risultati, allora il sacrificio è pure fatto. Ma così no, noi spendiamo soldi. Cemento, ma la viabilità peggiora. Nel primo dell'estate ho fatto un incontro con Michele Senatore, con Giovanni Del Vecchio e con Annetta Altobello, per migliorare anche il parcheggio. Perché uno, carico e scarico, che la mattina si inizia a scaricare alle 9, sembra asturdo, le attività a quello che già debbano vendere. Quindi se ci mettiamo anche a caricare e scaricare al lavoratore commerciale, si sprighi i clienti o guarda la merce che arriva. Quindi secondo me bisogna mettere alle 7 e questo carico e scarico. È stato promesso di sì, diceva, va beh, questa è una cosa che lo facciamo subito, immediatamente. Siamo a ottobre, non è cambiato niente. Come non è cambiato niente abbiamo proposto di mettere un'area veloce di spesa di un'ora, indicando magari sul vecchio trincerone e a Piazza San Francesco per un'ora, chi fa spesa è gratuito. Pure questo, vediamo, ma siamo ancora oggi, non ci sono risultati. Diciamo che ultimamente si fanno le riunioni giusto per chiacchierare un poco, ma i risultati alle riunioni non ci hanno mai conseguito. Inoltre Trezza propone una ridefinizione del regolamento relativo agli stalli di sosta blu delle aree del centro cittadino, che nei giorni feriali dovrebbero essere lasciati liberi per un tempo sufficiente a consentire un ricambio frequente delle auto a beneficio degli esercizi commerciali della zona. La Regione Campania ha dato il via libera al cofinanziamento del progetto di restyling di Via Gianturco di Raito. Taglio del nastro intanto per il potlac, opera in ceramica realizzata all'ingresso del vettore meccanico. Vediamo. Interessanti novità arrivano sul fronte dei lavori pubblici a Vietri sul mare. In particolare è prevista un'opera di restyling di Via Gianturco, la panoramica strada della frazione Raito. La Regione Campania infatti ha dato il via libera ad un cofinanziamento per l'intervento fortemente voluto dall'amministrazione De Simone, il che sarà seguito dal vice sindaco con delega ai lavori pubblici Angela Infante e dal consigliere comunale con delega all'ambiente Salvatore Pellegrino. La somma stanziata per i lavori, che prevedono tra l'altro l'arrargamento di Via Gianturco per migliorare la viabilità della zona, è pari a 250.000 euro. Oggi sabato 26 ottobre, inoltre, alle 16.30, accanto all'ingresso del vettore meccanico, è in programma l'inaugurazione del Potlac, installazione a mosaico ceramico composta da frantumi di artefatti ceramici, offerti da artieri, coltori e cittadini di Vietri sul mare per celebrare il ventennale del premio Viaggio attraverso la ceramica. Nei giorni scorsi, inoltre, è stata collaudata l'ascensore donata dall'Associazione Mia Piccola, che collega il cortile del palazzo di Città Vietrese agli uffici comunali. Ad Eboli aggredisce ausiliario del traffico, trentenne pregiudicato in carcere. Soltanto l'intervento dei carabinieri della compagnia di Eboli, diretta dal capitano Luca Geminale, ha scongiurato il peggio per la violenta aggressione e danni di un asiliario del traffico in pieno centro, in Viale Amendola. I militari dell'arma hanno bloccato un trentenne pregiudicato che stava picchiando il giovane dopo averlo colpito con pugni al volto, con calci e schiaffi mentre era a terra. È accaduto, ieri in pieno giorno, nella centralissima arteria viaria ebolitana, con il pregiudicato tradotto in carcere a forni per violenza, minaccia, resistenza e lesioni e incaricato di pubblico servizio. Il motivo sembra dovuto a un verbale che poco prima l'ausiliario del traffico aveva provveduto a redigere perché il trentenne aveva parcheggiato la propria autovettura nello spazio delimitato da strisce blu senza pagare il necessario ticket per la sosta. Da qui l'aggressione prima verbale e poi fisica, con il giovane costretto alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto. Per il pregiudicato si sono aperte le porte della casa circondariale di Salerno e sull'episodio di Viale Amendola anche il commento del sindaco Massimo Cariello che ha espresso tutta la solidarietà e la vicinanza all'ausiliario aggredito con un plauso all'intervento tempestivo da parte dei carabinieri. La finanza agevolata a servizio delle piccole e medie imprese e degli enti locali. Questo il titolo di un convegno che si è svolto questa mattina a Cava dei Pirreni. Parlare di finanza agevolata a disposizione degli imprenditori e degli enti pubblici presentando alla cittadinanza la rete di professionisti che ha deciso di sposare il progetto di Domenico Fimiani al fine di essere da supporto al territorio cavese e non solo. Questa mattina presso il caffè Mademoiselle Charlotte di Cava dei Tirreni si è svolto il primo dei tre incontri in cui si discuterà di temi attuali e complessi. Ho inteso organizzare questi incontri per lanciare un messaggio ai cittadini, alla cittadinanza. Nella mia vita ho sempre creduto in due concetti molto semplici. Le competenze e ognuno ha da fuori messiere suoi. C'è troppa improvvisazione, c'è un distacco fra cittadino e istituzioni. Il cittadino non ha da parte dell'amministrazione una visione programmatica della città di quello che si vuole fare. Il primo incontro di oggi si parla di finanza agevolata per le aziende e per gli enti locali. Il secondo sarà organizzato sull'indebitamento bancario e sovraindebitamento, sofferenze bancarie, noticismo bancario e quant'altro. Il tezzo invece si parlerà di bullismo e di violenza sulle donne perché sono argomenti che non si ne parla mai tanto. Sono tre temi che ho sempre abbracciato perché ritengo che oggi nella nostra società civile bisogna sempre impegnarsi e portarli avanti. Ho inteso organizzare queste giornate anche perché il buon sindaco Servalli ci ha chiamato noi della destra incompetenti e mi sento chiamato in causa perché dopo 32 anni qualcosa avrò imparato. Ho inteso organizzare questi incontri anche per presentarmi ai cittadini perché a maggio si vota e queste lezioni sono importantissime perché siamo arrivati alla frutta. Delucidazioni e soprattutto supporto per la cittadinanza in entrambi i casi, molto spesso, saranno ottenuti in maniera gratuita da chi li richiederà. Questa è un'altra mission del progetto. Nel convegno di oggi tratteremo principalmente l'argomento della finanza agevolata per le imprese e per gli enti pubblici perché ho l'onore, ma è una questione di tempo libero perché nel sindacato che è presito a livello nazionale PM Imprese Italia ovviamente mi hanno onorato di questa carica oramai che sono da un anno e mezzo e abbiamo voluto fare una nostra linea di tutelare delle imprese puntando tra le altre poche consulenze che ci permettiamo di dire che sono delle eccellenze la finanza agevolata sia europea diretta, sia indiretta e sia bancaria. Tramite domenico, con grande orgoglio e con grande onore su Cava sarà l'unico contatto che gli imprenditori potranno avere per avere delle lucidazioni e anche un supporto. In molti casi abbiamo concordato anche un supporto gratuito perché le progettazioni sono molto onerose e lì dove gli imprenditori, i giovani, casomai non hanno nessuna disponibilità economica per poter presentare le pratiche quindi i progettisti ci assumiamo noi la responsabilità. Quello che vogliamo fare anche attraverso domenico è di portare anche fondi strutturali qui a livello di ente pubblico perché nei prossimi giorni firmerò l'esclusiva con Asmez e Asmele che rappresenta la maggior parte dei comuni in Italia è un ente pubblico, un consorzio pubblico e cercheremo di portare quei fondi che oramai i comuni mandano indietro. È tutto pronto per la Kermess ormai giunta alla sua quinta edizione di Marte in Danza con la direzione artistica di Pinatesta e Stefano Angelini. La quinta edizione di Marte in Danza l'evento promosso e ospitato dal Marte Mediateca Arteventi di Cava dei Tidueni con la direzione artistica di Pinatesta e Stefano Angelini sta per svelare il sipario col gran galà di apertura. Siamo pronti per la quinta edizione di Marte in Danza domani sera alle 18.30 alla Mediateca Marte di Cava dei Tirreni quinta edizione di questa Kermess sulla danza dal 27 ottobre al 1 dicembre. Domani sera avremo ospiti di eccezione professionisti provenienti da tutta la regione Campania e come giusto che sia anche dal massimo ente lirico ci saranno dei ballerini del Teatro di San Carlo altri professionisti e tanti 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 ospiti. Avremo i corpi di ballo di obiettivo danza del Professional Ballet sotto la direzione artistica di Stefano Angelini e Pinatesta e soprattutto assegneremo il premio Marte in Danza 2019 al maestro Raffaele Paganini che sarà ospite domani sera alle 18.30 qui a Cava. La rassegna è come sempre un unico obiettivo celebrare la danza e lasciare che l'amore per quest'arte arrivi anche a chi sta appena muovendo i suoi primi passi ed imparando i suoi primi plie. Alla Kermess parteciperanno anche le scuole di Cava dei Tirreni l'Istituto Comprensivo Carducci Trezza l'Istituto Comprensivo Don Bosco e l'Istituto Comprensivo San Nicola quindi vi aspettiamo numerosi domani sera alle 18.30 e poi per tutto il periodo fino al 1 di dicembre qui alla Mediateca Marte di Cava dei Tirreni a domani. E apriamo la nostra pagina dello sport domani sera c'è Cavese Rieti mette gli anni chiamate a dare continuità al loro momento positivo Domani la Cavese affronterà il Rieti nella dodicesima giornata della Serie C una gara che sarà da prendere con molta prudenza visto che negli ultimi tempi la compagine Sabina ha ben interpretato le sue partite con dinamismo, corsa e senso del gol da parte della Cavese invece dinamismo ce n'è stato molto molta più concentrazione in fase di non possesso rispetto al Rieti ma manca ancora un po' il senso del gol che i metelliani sperano di riacquistare domani sera allo stadio Menti di Castellammare di Stabia dove Cavese e Rieti appunto si affronteranno a partire dalle ore 20.45 Questa è la probabile formazione degli aquilotti di mister Campilongo Cucic, Polito e Nunziante Matera, Matino e Rocchi Addessi, Bulevardi, Germinale, Sainz Massa e San Domenico Probabile risposta del Rieti allenato da Bruno Caneo a Dario, Granata e Zanchi Zampa, Aquilanti e Gigli De Paoli, Palma, Beleg Marchegiani ed Esposito Probabile il modulo 3-4-2-1 per gli Amaranto Blu sulla cui panchina non potrà andare Caneo che è squalificato per una giornata Ci sarà il suo collaboratore a dare le indicazioni ai giocatori Il Rieti ha vinto le ultime due partite che ha giocato compresa quella disputata appena mercoledì scorso con la Viterbese Castrense per 4-2 La Cavese ha invece pareggiato a potenza 0-0 e non ha subito gol nelle ultime tre gare La classifica vede la Cavese a 13 punti in 14esima posizione il Rieti è terz'ultimo a 8 punti L'arbitro di Cavese Rieti è il signor Michele del Rio di Reggio Emilia I guardalini saranno Toce di Firenze e del Santo Spataru di Siena Altre partite attese nella dodicesima giornata del Girone C sono Avellino Regina Picerno Paganese e Catania Bari alle ore 15 Monopoli Potenza e Vibonese Ternana alle 17.30 E sentiamo ora mister Salvatore Campilongo l'allenatore della Cavese come ha presentato la gara con il Rieti Preparare una partita così non credo che sia così difficile è solo che fa di capire ai calciatori che non a me che il Rieti anche se due settimane fa era una squadra che sembrava che si doveva ritirare al campionato per me non lo era quindi non è dopo la partita di Potenza abbiamo azzerato quello che era stata la nostra grande prestazione da un buonissimo risultato e adesso ci prepariamo ad affrontare questa partita con grande con grande sapendo che incontriamo una squadra in salute dove ci sono degli attaccanti molto molto bravi vengono da due vittorie quindi hanno cambiato allenatore hanno cambiato proprietà noi quello che dobbiamo fare lo sappiamo sappiamo che dobbiamo dobbiamo essere quello che chiede alla squadra è la compattezza che ha avuto a Potenza la compattezza di squadra che ha avuto con la Casertana la cattiveria essere presenti sul campo e tatticamente per 96-97 minuti innanzitutto non c'è nessun caso russotto perché non c'è mai stato che non ce ne sarà mai con me perlomeno un caso io voglio io non lo resigo io rispetto ma rispetto è per la squadra è per il gruppo io credo che l'importanza di una società e di una squadra sia il gruppo io non io non metto mai io davanti a quello che c'è io metto sempre la squadra metto sempre i calciatori russotto è un giocatore secondo me straordinario però a calcio io perlomeno io ho tanti allenatori che che fanno questo mestiere ci sono due fasi del calcio che sono la fase di non possesso e la fase di possesso quindi io io esigo che questa squadra dagli attaccanti siano i primi difensori e siano i primi giocatori che diamo una mano questo io richiedo poi non richiedo altro lui chiede a russotto di fare quattro gol a partita per me il sacrificio è quello di portare beneficio al gruppo se c'è questo e c'è rispetto allora io voglio rispetto ma lo voglio principalmente per i miei calciatori per il mio gruppo poi che possono nascere qualche discussione tra me e il calciatore queste sono cose che mi vedo io con lui se lo ritengo opportuno gli è esterno se non li ritengo per me vado avanti per la mia strada insieme alla mia squadra però l'ussotto è un giocatore intelligente bravo forte che ci può dare una grande mano perché è un giocatore che ha grande 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 qualità e noi ne abbiamo bisogno domani sera il Cavabasket sarà impegnato nella quarta giornata della Serie C Silver contro la formazione del Flavio Pozzuoli giocherà in trasferta dopo aver vinto le prime due partite che ha giocato in campionato il Cavabasket torna in campo nella quarta giornata della Serie C Silver si batterà contro il Flavio Pozzuoli in una gara che inizierà domani alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport a Monte di Procida i metelliani ci arrivano dopo aver superato Portici in campionato mentre il Flavio Pozzuoli è andato a vincere a Marigliano Alfonso Senatore il coach del Cavabasket sa delle difficoltà che la partita contro Pozzuoli potrà presentare quindi spera di ottenere una prestazione caratteriale da parte dei suoi sicuramente è stato un onore iniziare questo nuovo campionato con la maglia di Cava è stato soprattutto un piacere avere tutte queste persone sul pubblico che ci hanno dato sicuramente una mano durante una partita non semplice quanto riguarda il mio esordio è stata un'emozione affrontare comunque questa nuova esperienza segnare di fronte ripeto con tutte queste persone su chi spalte è stata sicuramente un'emozione incredibile sicuramente c'è stato un calo di attenzione non dovuto soprattutto a motivi personali ma soprattutto a motivi di squadra ci sono state tante piccole disattenzioni collettive quello su cui abbiamo lavorato questa settimana è stato proprio questo aspetto fondamentale ovvero di aiutarci specialmente in difesa e in attacco abbiamo dovuto lavorare molto di più per trovarci l'uno con gli altri questo inizio positivo è stato sicuramente frutto del lavoro che abbiamo fatto finora e sicuramente punteremo al posto più in alto in classifica per quanto riguarda la regular season per ambire poi ad una posizione di vantaggio durante i playoff e prima di chiudere vi ricordiamo che stanotte torna l'ora solare alle 3 infatti si dovranno spostare un'ora indietro le lancette degli orologi l'ora legale sarà di nuovo in vigore dal prossimo 29 marzo 2020 e questa è la nostra ultima notizia grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie per aver guardato il video